La trattativa non è andata a buon fine. CGL, Will, CSA, RSU annunciano che il braccio di ferro con il Comune sulla questione Polizia Municipale andrà avanti. È dunque implicitamente confermato lo sciopero in occasione della tappa a retina della Tirreno Adriatico. L'Assemblea Generale dei Lavoratori e delle Lavoratrici della Polizia Municipale di Arezzo, leggiamo testualmente nella nota sindacale, riunitasi in data 12 marzo per decidere in merito all'avvertenza in atto, ritiene inaccettabile e inadeguata la proposta della controparte pubblica. Inaccettabile perché, derogando dal contratto nazionale di lavoro, decurta in modo grave la retribuzione prevista dall'articolo 24 relativo al lavoro festivo, infrasettimanale. Inadeguata anche la proposta sulla sicurezza degli operatori e dei cittadini, perché non sono certi i finanziamenti indicati e di conseguenza il rispetto delle scadenze previste. Di fronte a tutto questo, il 94% dei lavoratori e delle lavoratrici della vigilanza, dopo una approfondita discussione, ha votato a favore della conferma del proseguimento della lotta. Prosegue quindi il muro contro muro tra amministrazione comunale e vigili urbani che solo una settimana fa hanno sollevato problemi non da poco. Mancata copertura radio del territorio, le stesse radio che non possono essere utilizzate mentre si viaggia in moto se non togliendo le mani dal manubrio, fiaccole, gessi e le mosinati, per non parlare poi delle divise. La punta dell'iceberg è dunque di una protesta che porta alla luce i motivi per cui i vigili urbani e retini non riescono ad oggi a dare seguito alla sempre crescente domanda di sicurezza da parte della città. Siamo con il comandante dei vigili urbani, allora questo sciopero viene mantenuto? Sì, purtroppo le organizzazioni sindacali hanno confermato questa proclamazione dello sciopero. Noi, a prescindere dal fatto che ci stiamo organizzando per fronte comunque a questo evento così importante come la Tirena Adriatica, ovviamente stiamo anche cercando di risolvere comunque i problemi più di carattere pratico, diciamo, che sono oggetto di questa controversia. Con l'auspicio che comunque i problemi possono essere risolti con una ripresa di un dialogo e di una collaborazione reciproca.